E in questo momento di pandemia è giusto praticare la solidarietà e magari ridurre le spese che servono ad acquistare armi per direzionarle invece sul settore sanitario. E' quello che chiede Monsignor Giovanni Ricchiuti che è praticamente il vescovo della diocesi di Altamura e Gravina ed è presidente di Pax Cristi. Il servizio. Il 18 marzo è ricorso il compleanno di Don Tonino Bello, l'indimenticato vescovo di Molfetta. Nel suo ricordo Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Cristi e vescovo della diocesi di Gravina, Altamura, Acquaviva delle Fonti, offre una riflessione in questo momento di grande prova per tutti. L'auspicio, dice Monsignor Ricchiuti, è che i politici in primo piano riescano a comprendere che questa pandemia debba portare a rivedere il nostro modo di vivere, relazionarci, saper costruire il futuro. Oggi che viviamo questa faticosa solidarietà, dice Ricchiuti, siamo invitati a stare più attenti agli altri. Questo ci fa capire quanto sia stupido, folle pensare ad un mondo che si costruisca, il proprio futuro, intorno alla paura. All'idea di difendersi dagli altri, che ci sono nemici dappertutto, per cui la strada è quella di armarsi, sottraendo risorse per la scuola, la sanità, la giustizia sociale. In Italia, da quello che leggiamo, mancano i posti letto, gli ospedali dedicati a certe patologie, i posti in terapia intensiva, i respiratori, le mascherine. Mi chiedo, dice Monsignor Ricchiuti, non è perché da diversi anni si sono abbattuti tali considerevoli sulla sanità? Mai però una coraggiosa messa in discussione sulle spese militari. Siamo chiamati ad una vera e propria rivoluzione pacifica, nel senso della pace in questo mondo. L'Italia spende per la difesa circa 68 milioni al giorno, ma stando alle richieste degli Stati Uniti e della Nato, noi dovremmo spendere ancora di più, forse vicino ai 100 milioni al giorno. E proprio in questi giorni è in atto questa enorme esercitazione militare USA, Nato, Defender, Europe 20, i cui costi e la cui durata non sono noti. Per non dire degli F-35 e di altre spese folli. Quanti posti letto potremmo realizzare con un solo giorno di spese militari, si chiede Monsignor Ricchiuti, e quanti respiratori potremmo comperare con un solo F-35? O con un solo casco del pilota, che costa 400 mila euro? Proprio Don Tonino Bello parlava del rischio che il sogno del profeta Isaia venga rovesciato. Invece di aratri, realizziamo armi. Invito allora a leggere il comunicato di Rete Disarmo e Rete della Pace, che ben analizza la situazione, con scelte possibili da subito. Difesa civile, non armata, non violenta, riduzione delle spese militari, utilizzando tali fondi per rafforzare sanità e scuola, riconversione dell'industria a produzione bellica verso il settore civile. E dico queste cose, conclude Monsignor Ricchiuti, avendo ben presente la situazione che viviamo, le sofferenze, le paure e le preoccupazioni dei malati. Lo dico come pastore della mia diocesi, come presidente di Pax Cristi e come governatore dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti, che in questi giorni ha messo a disposizione 300 posti letto, di cui 60 in reanimazione. Monsignor Ricchiuti si dice perplesso, dunque, di fronte all'intervista che il ministro Guerini ha rilasciato a Famiglia Cristiana, in cui giustifica le varie spese militari, gli F-35 e armamenti vari, affermando che il paese deve poter disporre di uno strumento militare commisurato a rango alle responsabilità che vuole assumersi. Non è questo il tempo delle polemiche, conclude Ricchiuti, ma dobbiamo essere attenti alla realtà che viviamo, perché ogni evento, anche questo dolorosissimo che stiamo vivendo, e non sappiamo ancora per quanto tempo, ci deve ricordare che un altro mondo è possibile, ma ci vuole coraggio e speranza, e lo sottolinea ricordando le tante fabbriche di armi a Brescia.